I sistemi di frenatura spesso hanno funzioni strategiche per la messa in sicurezza di macchine potenzialmente pericolose. Di solito questa funzione di frenatura è affidata ad un freno oleodinamico di tipo negativo che quando non ci sono più le condizioni di sicurezza come una perdita di alimentazione per esempio chiude la pinza del freno attraverso una molla. Occorre quindi una centralina che sappia valutare senza errori quando attivare l'impianto frenante che sia efficace nell'attivarlo e che riconosca i farsi positivi. Come garantire quindi sicurezza e funzionalità con un sistema di gestione elettronica e sensoristica ridondante. Il tutto con un elevatissimo livello di analisi e diagnostica. La centralina Smart Ivronit risponde perfettamente a tutte queste necessità.